Ora abbiamo dei plus plus che si usano per fare costruzioni e in una libreria al Globo, vicino a Trezzo sull'Adda, al Globo c'è una libreria in cui vengono a 9,90 dei pezzettini così, che sono 100 al pacchetto e quindi io ho questi, li ho distrutto da una cosa che ho fatto facilmente e ora mi farò vedere una costruzione possibile, vedo. Potete farlo a colorito uguale? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.